Buongiorno, eccoce le notizie del mattino di lunedì 30 dicembre, ultimi giorni dell'anno dedicati intensamente alla raccolta di firme contro la chiusura delle terme dell'antiquarium di San Calogero a Sciacca per il Comitato Civico Patrimonio Termale, associazione che si è costituita tre mesi fa, che cerca di tenere viva l'attenzione delle autorità politiche e istituzionali, ma anche della cittadinanza, sul problema terme. Ieri i componenti del Comitato sono stati in Piazza Angelo Scandaliato per proseguire la raccolta contro la decisione della regione siciliana del presidente Mnello Musumeci di chiudere anche l'antiquarium sul Monte Cronio. La raccolta proseguirà anche oggi con un banchetto collocato in via Cappuccini nella mattinata. Da ieri la neve ha fatto la sua comparsa anche in Sicilia, eppure nelle aree montane dell'Agrigentino la prevista sciabolata artica ha fatto precipitare la colonnina di Mercurio fino ad imbarcare i comuni siciliani, situati anche alle quote più basse. Ieri è stato chiuso l'eremo di Santa Rosalia a Santo Stefano di Quisquina, che a causa di un'ondata di neve ha reso impraticabile e pericolosa la strada di accesso. Secondo le previsioni il freddo durerà ancora qualche giorno. Sulla base dei fenomeni previsti, tra l'altro è stata valutata per la giornata di oggi 30 dicembre, allerta gialla sul versante terrenico e su settori centro-orientali dell'isola, freddo ma temperature un po' più alte nel versante occidentale, nel nostro territorio. La regione Sicilia è quest'anno la prima ad aprire il periodo degli sconti, il 2 gennaio, mentre nella stragrande maggioranza nelle altre regioni i saldi partiranno il 5 gennaio. In realtà tra promozioni varie i saldi sono iniziati già da tempo, dopo che la normativa regionale li ha praticamente liberalizzati. Basta solo non pubblicizzarli prima dell'avvio ufficiale. È quanto evidenzia Feder Consumatori Sicilia che invita i consumatori alla prudenza. La proiezione è che circa il 48% delle famiglie siciliane farà acquisti a partire dal 2 gennaio e fino alla fine degli sconti. Grazie. 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 Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp. Grazie. 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 Grazie.